Numeri, quelli dell'aumento vertiginoso della tassazione locale, della crescita della spesa corrente e della forte riduzione degli investimenti pubblici che hanno impressionato la numerosa platea presente all'incontro promosso da CNA e aperto dal portavoce della consulta territoriale di Gubbio, Stefano Pierotti. È stato il rappresentante della CNA Umbria, Fabiano Coletti, a illustrare nel dettaglio lo studio dell'andamento dei bilanci previsionali del Comune di Gubbio dal 2009 al 2013, dal quale è emerso che a risentire dell'incremento della tassazione locale sono state maggiormente le imprese a causa delle aliquote imu e tares fissate dal Comune di Gubbio ai massimi livelli sui capannoni e sugli immobili a destinazione produttivo commerciale, assimilati a beni di lusso mentre in realtà, mette in evidenza la CNA, in realtà sono luoghi in cui si crea occupazione e reddito. E nel 2014 al monito vi è il rischio che ulteriori maggiorazioni si concentrino su tali immobili a causa dell'introduzione della Tasi e della possibilità di aumentare ulteriormente le aliquote soffocando così un tessuto produttivo già estenuato. Mediamente è stato sottolineato le imprese coprono oltre il 60% delle entrate dei comuni ed è ormai necessario che le amministrazioni locali prendano maggiormente in considerazione le necessità dei maggiori finanziatori dell'ente. Quindi le proposte che CNA presenterà ai candidati a sindaco nei prossimi giorni saranno sul fronte Tasi la differenziazione delle aliquote applicate ai capannoni industriali e laboratori artigiani da quelle previste per le seconde o terze e quarte case e l'applicazione ai capannoni industriali e laboratori artigianali dell'aliquota minima dell'8 e 6 per mille. Per la Tari invece secondo CNA vanno distribuiti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti al 50% tra utenze domestiche e non domestiche. Vanno poi esclusi dalla base imponibile le superfici dei capannoni industriali dei laboratori artigiani dove si svolgono le lavorazioni e si producono rifiuti speciali i cui costi vengono sostenuti a parte dalle imprese. Occorre inoltre introdurre premialità per le utenze non domestiche che avviano a recupero parte dei rifiuti prodotti e vanno eliminate le inefficienze nei servizi di smaltimento. Infine per l'IRPEF occorre introdurre le detrazioni per le fasce più deboli ad esempio gli anziani applicare quelle a tutte le categorie produttrice di redditi compresi i lavoratori autonomi e non compensare le detrazioni IRPEF con aumenti delle imposte sui capannoni industriali e laboratori artigianali. I partecipanti hanno accolto e sostenuto con entusiasmo le proposte di CNA a volta la riduzione della tassazione locale è stato messo in oltre in evidenza come se mentre da un lato gli imprenditori per rimanere competitivi nei mercati nazionali ed internazionali devono fare investimenti, innovazione, tentare di contenere i costi di gestione ed essere flessibili e dinamici, dall'altra parte l'amministrazione pubblica è caratterizzata da immobilismo, aumento della tassazione, diminuzione degli investimenti e aumento della spesa corrente. Sono emerse anche ulteriori idee e suggerimenti in merito al rilancio dell'economia del territorio, al turismo, sistemi turistici integrati ad esempio all'edilizia, affidamento degli appalti e all'efficienza della macchina amministrativa che a partire dalle prossime settimane saranno presentate negli incontri con le forze politiche e con i candidati a sindaco.